Che cos'è la prescrizione? Che cos'è la prescrizione? È il contrario dell'assoluzione. Il giudice, se ritiene innocente l'imputato, lo deve assolvere. Se non lo ritiene innocente, ed è trascorso troppo tempo, dichiara la prescrizione. Quindi, il reato qui, in questo caso, è del 1999. Quando è stato commesso, la prescrizione per la corruzione giudiziaria era di 15 anni. 1999 più 15 fa 2014, quindi il processo sarebbe finito fra due anni. Ci sarebbe stato tutto il tempo di fare primo grado appello e cassazione, anche per Berlusconi. Invece nel 2005 Berlusconi ha approvato la legge Cirielli che tagliava la prescrizione per quel reato. Da 15 anni è diventata 10. 99 più 10, 2009 più il tempo che si è perso, 2012. Ecco perché è scattata prima per una legge ad personam che l'imputato Berlusconi ha fatto per se stesso per accelerare i termini di prescrizione, mentre i suoi avvocati allungavano i tempi del processo. Condannare Berlusconi sarebbe stato difficile perché non esistono prove, non c'è traccia di transazione finanziaria. Quindi sarebbe stato imbarazzante rischiare poi un appello complicato che avrebbe potuto ribaltare la sentenza. Era altrettanto difficile per il Tribunale assolvere perché il significato sarebbe stato imbarazzante in quanto la giustizia si è mobilitata per anni e anni allo scopo di arrivare il processo e una assoluzione avrebbe suscitato molte perplessità nell'opinione pubblica e giustificato quelli che sostengono che siamo in presenza di un accanimento giudiziario contro il Cavaliere. Quante prescrizioni ha avuto Berlusconi nella sua carriera di imputato? Sei. È già stato accertato, reati accertati ma prescritti, che lui ha illegalmente finanziato Craxi, Oli Berian, tre falsi in bilancio sono caduti in prescrizione, la corruzione di un giudice nel caso Mondadori e oggi la corruzione del testimone Mills. La prescrizione è rinunciabile. Se uno si sente innocente e non vuole avere addosso la macchia di un reato commesso ma prescritto, cioè praticamente se non vuole passare come uno che l'ha fatta franca pur essendo colpevole, può chiedere di rinunciare alla prescrizione e di essere giudicato oltre i termini. Berlusconi non l'ha mai fatto, forse perché chi rinuncia alla prescrizione di solito è innocente, mentre lui evidentemente sa di essere colpevole. La prescrizione era perfetta perché chiunque la può interpretare come vuole, non è né una soluzione né una condanna e inoltre consente al PDL, al partitone di Berlusconi, di rimanere compatto e di continuare ad appoggiare il governo Monti, il quale governo Monti quindi andrà avanti a fare quello che deve fare e che sta facendo abbastanza bene. Saremo tutti contenti, il Quirinale, la magistratura non fa brutta figura, Berlusconi non fa sicuramente la parte del criminale e pertanto si va avanti tranquilli, siamo veramente tutti contenti. Saremo tutti